Terza corsa premio Evansy, la prova tra l'altro di maggior dotazione del convegno di oggi, è una prova per sole femmine di 5-6 anni, in 6 Alvia, Zona Jet, Antonio Di Nardo per Luca Fierro, il 2 Zeu DMG Lucio Becchetti, il 3 Asdora, Gianpaolo Minucci per Dario Battistini, il 4 Zuma Blessed, Romolo Sani per Lucio Becchetti, il 5 Zelda Zach, Roberto Faticoni, il 6 Esk, Davide Di Stefano per Gaspare Lo Verde, rinunciano al lancio le due di Becchetti, partono forte Asdora, Zelda Zach e fortissimo a largo Esk Minao, ma Asdora reagisce all'interno, insiste Esk Minao e di slancio riesce a scavalcare Asdora, davvero una partenza al full micotone, quella colta da Davide Di Stefano in Salchi alla figlia di Ganymed che ha scavalcato di slancio Asdora ma quest'ultima accenna subito a riproporsi sull'avversaria, terza posizione per Zelda Zach, poi ancora Zona Jet e Zeu DMG e Zuma Blessed, c'è il via libera per la favorita Asdora da parte di Esk Minao che fra l'altro ha corso anche 24 ore fa e allora Asdora comanda dopo 600 metri, il lancio era stato in 12,7 e ora i 600 iniziali sono in 44,4, quindi non c'è stato strappo da parte di Asdora per rilevare il comando da Esk Minao, si muovono all'esterno sul rallentamento le compagne di allenamento Zeu DMG e Zuma Blessed che risalgono sfruttando il cospicuo rallentamento operato da Giampaolo Minucci in Salchi alla battistrada, battistrada al duro attacco ora da parte di Zuma Blessed che sorprende Asdora e con un parziale la, scusate di Zeu DMG che con un parziale secco supera Asdora che non sembra reattiva e ora viene attaccata anche da Zuma Blessed ma Zeu DMG, l'errore però per Zuma Blessed, Zeu DMG ha fatto un parziale davvero terrificante con il quale ha tolto il comando da Zora e ora allunga e si presenta chiaramente in vantaggio il retto d'arrivo, Asdora cerca di riorganizzarsi ma Zeu DMG l'ha completamente sorpresa, l'ha passata di slancio e ora non si fa più prendere da Asdora e vano il tentativo di rivalza perché Zeu DMG conclude in piena spinta e dopo la prova di rientro oggi viene riproposta a un gran livello da Lucio Becchetti e batte chiaramente la favorita Asdora con Esk Minao al terzo posto, io ho 1.55.5 sul mio cronometro che significa media intorno all'1.12.2 per la figlia di Ideale Luisa e Ironica Spin, i colori quelli del signor Aldo Rondena, Lucio Becchetti alla guida e al trading che è parziale Zeu DMG Grazie a tutti!